No, io a dir la verità sono stato contento perché avevo giocato miglio. Non parlate con me perché io avevo Premier Pride come allevatore per cortesia, un millimetro, per favore eh? Esatto, per cortesia eh? Per cortesia. Lasciamo cadere, desistiamo. A più tardi. Allora ancora un cordiale buon pomeriggio, due anni interessantissimi, pochi ma buoni in sei, dopo l'ottimo debutto Turbo di Azzurra, l'ennesimo Varenne, è il più gettonato. Prende velocità la macchina. E si chiudono le ali della macchina e Tarsi a lui si impegna Turbo di Azzurra per il comando, poi Trifone Gall e il Varenne gli rientra e così è lui a comandare The Operation. 14 e un battito e a metà della piegata rimane ancora Nasino al salchi del leader, la leva di Minopoli, poi chiaramente parcheggia e al completamento della stessa Turbo di Azzurra per il momento è lui al comando. 34 e 400 e davanti alle tribune Turbo amministra, Tarsia, poi Trifone Gall, il 2 di 2 di Rapid e il 4 di Turbo Russo, più indietro il 6 di Top Day Model. 45 e 9, 600, l'andatura è brillante, vi ricordo sono due anni e Cavalli che affronta, infine Indiana, la penultima curva. Un Trifone che ogni tanto si affaccia col Nasino, poi ritorna buono buono lungo i Birilli. 1, 2, 8 e il mezzo miglio, 16 e 9 di frazione, si viaggia intorno all'1, 18 e mezzo. Ancora tutto tranquillo. Retta di fronte, Trifone ora si muove, punta in avanti l'allievo di Ciccio De Cristofaro. 18 e 3 il chilometro, 15 e mezzo di frazione, Turbo, Trifone che appariglia la Tarsia, poi i 2 di Rapid, curva finale, 400 alla meta, si distende il leader, 14 e 6, 1, 32 e 9, 3 quarti di miglio, Trifone sempre alle costole, stiracchia le redini lunghe di Vipil, Varen, retta d'arrivo, il Turbo al comando, Trifone all'argo, di dentro Tarsia, Turbo controlla, controlla, Turbo e il controlla ancora, no problem, Turbo di azzurra come quando vuole, rientra Tarsia, è sul palo, la leva di Minopoli è seconda, probabilmente. 2, 3, 1, 14 e 2 la chiusa, 1, 16 e 9, cost to cost notevole per senso tattico, capacità di gestione e soprattutto grinta finale. Per la gioia dei due Giovanni, questo Turbo di azzurra, una pennellata, una presentazione e una guidata di VP dell'Annunziata, 1,45 la quota, in chiusura di un ennesimo Varen che chiaramente, per tanta genealogia e l'inora...